Il genito può essere una tappa che cambia un po' il cammino di questo Garanzano, che fino a che è stato un po' difficoltoso? Sicuramente fare punti era importantissimo. Vista la partita magari c'è anche un po' di rimpianto per non aver portato a casa tutti e tre i punti, ma dopo quattro sconfitte consecutive, quattro totali, era importante non perdere. Comunque anche portare un punto a casa è importante, ripartiamo da lì. Tante difficoltà in questo inizio di campionato dovute a varie motivazioni, adesso è arrivato il momento di provare a mettere una marcia un po' più alta. Sì, sicuramente, ma come si è visto in campo le prestazioni escluse una o due partite non sono mai mancate. Purtroppo insieme alle prestazioni non sono arrivati i punti, c'è colpe, colpe nostre, ma anche purtroppo un pizzico di fortuna che ad oggi non ci sta girando. Sono convinto però che da domenica invertiremo rotta e cominceremo anche a portare i punti a casa, oltre alle prestazioni. Alla fine della partita di Rigento il vostro mister ha detto che a questo punto pensiamo prima alla salvezza e poi a quello che verrà, verrà. Tu, nell'interno del gruppo, cosa si pensa di questa cosa? Qual è il vero obiettivo del stagionale parlamentare? Sicuramente con una partenza così lenta e con una partenza con così pochi punti è importante mettere tasselli uno alla volta, piano piano. Secondo me questa squadra con i nomi che ha, i giocatori che ha, ha alte prospettive di una salvezza. Sicuramente si può giocare benissimo i dieci posti validi per il playoff. Tu invece, fino a questo momento, hai fatto un po' da giorni difensivi, hai giocato in vari ruoli. Come giudici questo tuo inizio di campionato? Un po' come la squadra, perché non sono soddisfatto ancora delle mie prestazioni. Purtroppo capita, capita in una carriera di un calciatore e spero e sono sicuro che però avrò delle altre opportunità per mettermi in mostra per tutto quello che sono. Qual è il tuo ruolo principale? Il mio ruolo principale è il centrale, ho fatto sempre centrale, il mio ruolo originario è il centrale difensivo o a tre o a quattro. Poi l'altro anno, gli scorsi anni, mi hanno adattato sia terzino destro che terzino sinistro. Non avevo mai sperimentato il quinto largo, sto iniziando quest'anno a farlo e faccio quello che mi dice il mister. Se dove servo mi metto sul campo a lavorare, cerco di migliorare anche un ruolo che ancora non avevo mai provato. Senti, la tua prima esperienza fuori dal Lazo? Sì, tutto bene, al di fuori del campo mi trovo bene sia nella città sia con il nuovo gruppo. Stiamo insieme da poco, ma veramente sembra una frase fatta, ma è come se ci conoscessimo da sempre. perché come gruppo siamo veramente uniti e quindi tutto bene. Un po' di cuore e testa C9, anche pure. Sì, quando avrò la possibilità, sempre.